Ragazzi finalmente oggi sono qui a parlarvi dell'iPhone 15 Plus Ebbene sì ragazzi dopo aver provato l'iPhone 15 Plus prima come dispositivo secondario e ora da due settimanelle come dispositivo primario sono finalmente pronto per parlarvi di questo iPhone Tra l'altro vi ricordo sempre che questo è un iPhone ricondizionato da Trend Device di grado A quindi è praticamente come nuovo e sembra uscito ora dalla scatola e vi ricordo sempre il mio codice sconto IMATTEO10 per avere 10 euro di sconto eventualmente per acquistare un iPhone sul loro sito e anche questa cosa non la sapevo 10 euro di extra valutazione se vorrete vendere un dispositivo a Trend Device quindi non saranno tantissimi ma come sempre dico meglio di niente e ci tengo ovviamente anche a ringraziare Trend Device perché senza di loro non potrei mai mai fare questo genere di video non potrei mai acquistarmi tutti questi iPhone loro gentilmente mi rimandano per potervene parlare quindi vi ringrazio come sempre ragazzi per credere in questo canale e in questo progetto quindi ragazzi prima di tutto come sempre quando provo un iPhone che non sia un iPhone Pro come l'anno scorso l'iPhone 14 Plus vi ricordate il mio iPhone 14 Plus rosso che stanno questo iPhone 15 Plus mi rendo conto e mi faccio sempre una sola ed unica domanda ma ha ancora senso acquistare gli iPhone Pro? ovviamente ve ne parlerò alla fine di questo video ma vi anticipo che ogni anno mi dico no cioè non ha senso cioè secondo me un iPhone normale standard tra molte virgolette come questi iPhone vanno veramente più che bene anche a persone come me quindi come voi che sono appassionate che seguono il mondo Apple con assidua passione sono lì che vogliono sempre l'ultima tecnologia ormai gli iPhone standard vanno bene veramente per tutti ma vi ripeto ci arriviamo alla fine partiamo col design devo dirvi che il design di questo iPhone 15 Plus mi piace veramente tanto mi è andata via la voce per un secondo mi piace veramente tanto anche di più rispetto all'iPhone 14 Plus dell'anno scorso per una semplice ragione che quest'anno abbiamo il retro opaco e la fotocamera lucida mentre l'anno scorso era il contrario avevamo il retro lucido e la fotocamera opaca secondo me così fa anche molto più senso di pro sembra quasi un iPhone Pro se ci pensate perché proprio dall'iPhone 11 Pro che gli iPhone Pro sono diventati opachi sul retro in realtà poi l'iPhone 11 Pro è il primo iPhone Pro uscito quindi da quando sono usciti gli iPhone Pro avevano il retro opaco e la fotocamera lucida gli iPhone standard invece erano sempre stati il contrario da quest'anno anche l'iPhone standard è stato così e secondo me è stata una scelta molto molto azzeccata a me piace molto di più anche per quanto riguarda i bordi di questo iPhone che sono molto più sondati proprio in stile anche iPhone 15 Pro e anche il davanti nonostante faccia parte dello schermo ma secondo me è anche un elemento estetico a tutti gli effetti l'isola dinamica rispetto al notch ha già molto più di iPhone contemporaneo molto più di iPhone moderno rispetto ovviamente ad un notch che ormai ce lo portavamo dietro dall'iPhone X quindi in generale il design di questo iPhone secondo me è veramente bellissimo e sembra molto di più un iPhone Pro rispetto al passato fatemi sapere voi ovviamente qui sotto nei commenti cosa ne pensate tralasciando poi ovviamente il colore a me il nero come sapete non mi fa impazzire ma se prendete per esempio già un iPhone 15 normale o plus di colore giallo oppure il verdino a me veramente quei due colori fanno impazzire sono veramente bellissimi soprattutto il verdino perché è un verde pastello molto tenue molto tendente al bianco ovviamente lo sapete però ecco molto molto carino oppure se vi piace il rosa anche il rosa devo dire che forse è il colore più acceso dopo il nero di questa serie di iPhone 15 mentre ragazzi torniamo a parlare dello schermo perché lo schermo vi ho detto c'è l'isola dinamica rispetto al notch come sempre vi ho detto sapete cosa ne penso dell'isola dinamica non è quell'elemento che proprio è imprescindibile serve per forza averlo perché ormai non ne posso più fare a meno se c'è bene se non c'è pazienza ne posso fare assolutamente a meno però ecco appunto già che c'è è sicuramente un punto in più e poi c'è ovviamente il discorso dei 120Hz sapete cosa ne penso che per me sono una tecnologia iper indispensabile io ormai non ne posso più fare a meno dei 120Hz sono anche consapevole che non per tutti è così per le persone normali avere i 120Hz o non averli non gli cambia la vita anzi molti neanche se ne accorgono ok sono d'accordo con voi ma io sono dell'idea che dopo che spendi più di 1000€ per un dispositivo Apple per un iPhone ormai i 120Hz mi li devi mettere cioè è un iPhone standard va bene ma costa 1000€ cioè tu non mi puoi dare un telefono al giorno d'oggi a 1000€ che non ha i 120Hz e tra l'altro sembrerebbe che neanche gli iPhone 16 ce l'avranno il primo iPhone standard che avrà i 120Hz sarà l'iPhone 17 quindi dovremmo aspettare ancora un altro anno per vedere i 120Hz su un iPhone non pro e secondo me questa è veramente una follia cioè no ragazzi io non sono assolutissimamente d'accordo però ecco fatemi sapere voi ovviamente cosa ne pensate poi ovviamente uno l'abitudine ce la fa ma ogni volta che torno magari al mio iPad che ha i 120Hz o riprendo in mano un iPhone Pro veramente mi cadono gli occhi perché dico questo al giorno d'oggi non si può più vedere cioè per quanto mi riguarda ora ragazzi voglio parlarvi di un elemento di cui già vi ho parlato nel video dell'iPhone 15 Pro Max dopo averlo venduto ovvero il tasto azione che ovviamente su questo iPhone non c'è c'è il tastino quello classico Switch che abbiamo sempre avuto ebbene vi ricordate che vi ho detto che il tasto azione io lo usavo praticamente solo per mettere in silenzioso l'iPhone per togliere il silenzioso infatti cioè praticamente io lo usavo come il tasto Switch quindi a me il tasto azione su questo iPhone non mi manca assolutamente per niente e questa moda ormai che sta avendo Apple di aggiungere praticamente un nuovo tasto su iPhone ogni anno infatti anche con l'iPhone 16 dovremmo avere un nuovo tasto cattura sperando che perlomeno per il mio utilizzo sia più utile del tasto azione non la sto capendo cioè siamo passati dal dover togliere su iPhone ad aggiungere tasti io ovviamente o è un sinonimo del fatto che ormai Apple non sa più che mettere come novità o altrimenti non me lo spiego perché mettere tutti questi tasti su iPhone sinceramente non mi fa impazzire come cosa però staremo a vedere se il tasto cattura sarà più utile per quanto mi riguarda il mio utilizzo poi sono assolutamente concordo con voi che per molti di voi magari il tasto azione è stato super utile per quanto mi riguarda no speriamo che il tasto azione invece lo sarà potenza anche qua non mi prolungo perché va bene ragazzi cioè un iPhone comunque appena uscito comunque uscito da poco va sicuramente molto bene certo qualche piccola problematica in più rispetto ad un iPhone Pro la noto ma ovviamente non esagerata e nulla di così grave quindi anche un iPhone standard va più che bene anche per quanto riguarda la fotocamera come sempre vi ho detto sono due fotocamere ovviamente mi manca la terza che sarebbe la zoom ma se devo scegliere tra la zoom e la 0.5x da avere su un iPhone sceglierei comunque sempre la 0.5x anche se ho notato che non è una cosa che in molti concordano questa però per quanto mi riguarda è sicuramente anche più divertente poi non è che siamo tutti fotografi se sei un fotografo sicuramente è l'iPhone Pro quindi se sei una persona normale se non è molto più utile avere la 0.5x la ultra grandangolare rispetto ad uno zoom 3x o 5x ottico e invece ora voglio parlarvi della cosa che più mi ha sorpreso di questo iPhone ovvero la batteria infatti da quando lo sto utilizzando come dispositivo primario ho notato anche un miglioramento rispetto alla batteria dell'iPhone Pro che comunque già andava bene perché era un Pro Max ma questo Plus va ancora meglio questo sarà anche perché non ha certe cose da gestire già banalmente i 120Hz anche se non sembra ma consumano un po' di batteria questo iPhone non avendoli risparmia batteria quindi anche da questo punto di vista è sicuramente avvantaggiato ma se volete un iPhone che vi duri tutta la giornata senza il minimo la minima preoccupazione ovviamente a batteria sana poi se si inizierà a degradare più si andrà avanti e meno durerà ma attualmente a batteria sana io arrivo a fine giornata con il 30-25% barra 20% nelle giornate molto molto stress che è un risultato incredibile veramente perfetto io con l'iPhone Pro Max arrivavo ultimamente con il 15% a volte il 10% raramente con il 20% quindi è stato un piccolo balzo in avanti e poi ultima ma non ultima anche qui abbiamo la USB-C che non è la USB-C performante come su iPhone Pro ma è comunque una USB-C quindi è super comoda possiamo collegarci SSD fotocamere quello che vogliamo andrà un po' più lento questa lentezza un po' l'ho sentita e anche qua se siete persone normali magari non fate contenuti non vi serve avere la USB-C Thunderbolt quindi va benissimo anche questa USB-C ci mancherebbe anche altro quindi ragazzi in parole povere ha senso ormai acquistare un iPhone Pro secondo me no ragazzi cioè secondo me più si sta andando avanti e più mi sto rendendo conto che anche per noi appassionati per noi persone che seguiamo le novità per noi persone che vogliamo sempre le ultime novità tecnologiche avere un iPhone Pro è quasi inutile potremmo vivere benissimo anche con un iPhone non Pro poi ovviamente c'è la questione del sono appassionato voglio comunque l'ultima tecnologia anche se non mi serve so che c'è quella cosa dentro il mio iPhone e mi fa sentire meglio sembra banale ma la passione secondo me è proprio questo e quindi alla fine acquisteremo sempre comunque gli iPhone Pro però sono consapevole del fatto che se non avessi questi canali se non fossi così tanto appassionato mi comprerei un iPhone standard e starei veramente nella pace dei sensi ah non vi ho parlato anche il fatto che non abbiamo l'always on display ma ve ne ho parlato già con l'anno scorso con i 14 plus anche questa è una mancanza non mancanza cioè una volta che ce l'hai ovviamente ti fa piacere ma quando non ce l'hai puoi farne benissimo a meno quindi ragazzi fatemi sapere voi cosa ne pensate dell'iPhone 15 plus e dell'iPhone 15 in generale anche del discorso se conviene ora acquistare l'iPhone Pro non Pro eccetera eccetera e se questo video vi è piaciuto vi ricordo che potete lasciarmi un mi piace iscrivervi al mio canale mi aiutereste veramente tanto ringrazio nuovamente Trend Device per permettere di fare questi video e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo video ciao belli ho registrato questo video due volte perché prima me l'ho scordato di collegare il microfono poi me l'ho scordato di accendere delle luci non ho più voce ciao ciao